Ciao amici e amiche del segno del sagittario, benvenuti su Exotericorio, sono Angela e questo è l'oroscopo dal 4 al 10 novembre. Vi ricordo prima di iniziare che questa è una lettura generica e che vi consiglio di integrare con il vostro ascendente per avere qualche informazione in più. Cliccando in alto a destra vedrete le recensioni dei mazzi usati per la lettura in descrizione, trovate i link per acquistarli sempre in descrizione, trovate il link per vedere la playlist e conoscere il significato delle carte della Sibilla italiana. Inoltre trovate anche i link per contattarvi per prenotare un consulto e negli ultimi secondi del video trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, quello lunare motivazionale. Adesso andiamo a scoprire proprio le prime indicazioni, magari che cosa dovete sapere in genere della vostra settimana. Una volta può uscire un avvertimento, un consiglio, una specie di affermazione. Affermazione in questo caso perché c'è la carta che più rappresenta la scelta, la decisione, quindi il sentiero, il percorso che noi stiamo scegliendo proprio di andare, di procedere. Non solo, magari se abbiamo qualche dubbio e perplessità nel percorrere una strada, ecco questa potrebbe essere proprio la settimana giusta per chiarirsi, per definire e prepararsi. Prepararsi soprattutto con la carta della casa vuol dire essere ben sicuri, sentirsi comodi, tranquilli, stabili e attenti a calcolare ogni minima cosa. Quindi pianificazione e attenzione e tanta cura. Poi a maggior ragione se alcune scelte riguardano la famiglia stessa, la casa, possibili cambiamenti, acquisti eccetera. O anche se si devono fare delle spese proprio riguardo alla casa. Dico informazioni di questo tipo che possono essere legate sia alla famiglia, a persone che frequentano la casa, quindi anche amicizie strette, familiari eccetera. Quindi ecco queste scelte importanti. Poi andiamo a vedere le altre energie della vostra settimana che possono essere in azione e che anche vi possono essere utili ad affrontare le vostre sfide quotidiane. Dico sfide quotidiane in effetti perché ci sta come termine, perché abbiamo questi topolini fastidiosi e anche la montagna che indica purtroppo un blocco, un qualcosa che dobbiamo sormontare e superare proprio per arrivare ad ottenere maggior tranquillità, maggior stabilità. O anche per mettersi nelle condizioni di prepararsi come si deve a una nuova fase della propria vita, magari a iniziare qualcosa. Però questa settimana indica una fase di assestamento, di soluzione e risoluzione di alcune cose, di capire e comprendere meglio come procedere. Quindi meglio affrontare alcune cose proprio in questa settimana per poi trovarsi pronti ad un nuovo inizio, come vi dicevo, oppure ad affrontare un progetto, una questione importante con tutte le nostre energie, soprattutto sgombri di alcuni problemi e di alcune cose che possono riguardare sia le nostre energie, ad alcuni fastidi, alcune incombenze e stress. Quindi ottima settimana per togliersi di mezzo alcune cose anche fastidiose in realtà. I segni zodiacali da attenzionare particolarmente nella vostra settimana sono i segni di terra, torovergine e capricorno. Questi sono proprio dominanti e principali, forse un pochetto anche quelli di fuoco, ariete, leone e sagittario. Adesso andiamo a vedere come queste energie si riflettono nell'ambito amore, coppia singola e poi vedremo il lavoro e le finanze. Troviamo la fanzulla. Spesso si ha a che fare anche con una persona, però essendo una stesa generale può riguardare proprio la situazione che state vivendo e che quindi in qualche modo può essere tutto sommato abbastanza tranquilla o forse in apparenza. Si è particolarmente sensibile, abbiamo visto siamo un po' stressati e quindi è facile che ci possano essere delle piccole incomprensioni, ma assolutamente vedete proprio dalle carte che sono positive c'è massima intesa, c'è unione, c'è anche sia la carta dell'amore e dell'amante, carte proprio perfette in questo ambito che parla di tutte le situazioni proprio positive, proprio di sentirsi uniti, appagati, anche magari miglioramento della coppia stessa anche a livello intimo, se qualcosa non è andato bene precedentemente e se ci sono dei problemi, delle cose a livello esterno comunque c'è massimo sostegno, aiuto e conforto a livello di coppia, quindi di procedere in questo modo. Magari delle cose che vi possono essere utili a migliorare proprio l'aspetto della coppia stessa sono l'indicazione di qualche carta, soprattutto la carta dell'amante, quindi generosità, sensibilità, disponibilità, anche seduzione in alcune circostanze, oppure saggezza per le questioni un po' più pratiche. Adesso andiamo a vedere per i single, dove troviamo la carta conversazione, ottima carta che può riguardare proprio tutti i tipi di comunicazione. In questo caso, vi dicevo, ci parla di possibili visite, incontri, di novità, anche di una nuova energia, magari da parte vostra di intraprendenza, oppure potrebbe essere anche l'altra persona che può avere qualche iniziativa interessante nei vostri confronti. Ovviamente dico i significati in genere perché ricordo sempre che questa è una lettura troppo, troppo generica, rivolta alla collettività e ognuno di noi vive una situazione specifica, diversa dagli altri. Quindi magari alcuni di voi avranno possibilità di coltivare a livello di comunicazione una conoscenza, una frequentazione, forse esserci degli impedimenti al momento, cioè se state organizzando, di incontrarvi, di vedervi, ci sono degli impedimenti passeggeri, abbiamo visto proprio dalle vostre energie, e quindi le cose vanno a migliorare, quindi con delle decisioni che si vanno a prendere in una direzione ben precisa. Ovviamente essendoci la carta sponsali indica cambiamenti importanti, positivi, di accordarsi, di trovare delle soluzioni insieme. Quindi se c'è una fase di conoscenza potrebbe esserci, quindi come una nuova conoscenza proprio nel corso della settimana, o anche incontrare qualcuno di interessante. Ovviamente è la carta della nemica che mette un po' qualche sospetto, forse voi semplicemente volete prendere le cose con calma, non vi create, diciamo, illusioni, volete verificare e vedere e fate bene, poi prenderete la vostra decisione se lasciar perdere alcune di queste conoscenze o comunque procedere e andare avanti. Adesso vediamo dal punto di vista finanziario e lavorativo il messaggio per voi. Troviamo la carta bambino, carta positiva effettivamente, poi c'è gelosia e falsità. Che cosa vogliono dirvi? L'avevo capito un po' dalle vostre energie in genere, che c'è quel desiderio, quello voglio di iniziare qualcosa, di mettersi in moto, forse un nuovo progetto, forse un nuovo investimento, magari di mettere tutte le vostre energie in qualcosa di specifico, quel desiderio c'è però rimane in una fase embrionale o di non espressione, a causa di situazioni esterne oppure di persone eccessivamente critiche nei vostri confronti. Allora io direi di lasciar stare se le persone non possono capire e comprendere i vostri veri desideri, i vostri bisogni, quindi di procedere per conto vostro, se ci sono delle persone che vi ostacolano magari scoraggiandovi, se invece sono delle situazioni esterne che non vi permettono al momento di manifestare veramente le vostre intenzioni, allora sì è meglio aspettare, come abbiamo visto, prepararsi attentamente, cercare di risolvere alcune faccende e poi farsi trovare pronti, quindi riflettere attentamente, di prendere questo periodo come un momento positivo proprio per cercare di prepararsi nel miglior modo possibile. Quindi anche nel lavoro stesso e anche chi è in cerca di lavoro, quindi tutta questa nuova spinta, la fase di ricerca o delle novità devono essere comunque tutte attenzionate, perché alcune magari è meglio scaltarle subito, quelle che possono sembrare in apparenza positive potrebbero avere un retroscena negativo, quindi queste carte consigliano di valutare attentamente possibili proposte e investimenti, capire effettivamente se sono degli ottimi consigli, se sono delle ottime informazioni, se sono delle cose che magari vi sentite di fare adesso o aspettare, quindi ascoltate il vostro intuito. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito, se volete qui in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre qui in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile, e quello lunare e quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!